Il progetto arriva per la prima volta in Italia, è stato portato alla ribalta e all'attenzione degli studenti di tre Politecnici, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Politecnico di Bari. La prima volta dicevo che arriva in Italia, il progetto è nato in Brasile circa tre anni fa e dopo un'esperienza in giro per il mondo di tre anni finalmente lo abbiamo nel nostro paese. Il progetto si basa e è formato in diversi step, il primo step si chiude il 21 ottobre con la chiusura delle submission e quindi ragazzi hanno tempo fino a quella data per pubblicare sul sito Red Bull un video di 60 secondi con descrizione almeno di base di una idea che possa essere magari sviluppata e incubata. In effetti il progetto prevede una successiva fase di votazione e poi di valutazione da parte di una giuria di esperti, start-up per docenti, ricercatori che appunto faranno in modo che un team rappresenti l'Italia alla finale, al Global Meeting di Berlino che si terrà a fine novembre. Nel momento in cui ci sarà il Global Meeting questa idea imprenditoriale che magari sfocerà in un prototipo, in un progetto più avanzato, entrerà in competizione con le idee di altri team che rappresentano 16 paesi in rappresentanza di 300 università di tutto il mondo. E poi chi vincerà avrà magari la possibilità di essere ulteriormente incubato, finanziato e l'idea potrà, se tutto andrà per il verso giusto, arrivare a essere qualcosa di più di un'idea e a trovare applicazione e magari rinnovazione sul mercato. Red Bull sappiamo è una grossissima multinazionale ma è sempre stata attenta a alcuni impatti nel mondo che si hanno dovuti per esempio ad alcuni fenomeni tipo i rifiuti eccetera. Allora per esempio dei progetti particolarmente interessanti per Red Bull potrebbero essere il modo con cui si possano riciclare delle lattine in alluminio o all'interno dei campus, progetti di impresa che abbiano l'obiettivo ultimo di migliorare la vita all'interno dei campus universitari attraverso anche l'impatto tecnologico. Le nuove tecnologie possono infatti risolvere tantissime problematiche e criticità che ci sono all'interno dei campus anche con un impegno proattivo da parte dello studente perché magari ci sono alcune problematiche ed è importante diciamo che tutti quanti si pongano il problema di come risolvere delle problematiche e soprattutto l'impatto tecnologico che oggi alcune tecnologie tipo intelligenza artificiale, VR, Internet of Think hanno effettivamente possono portare grossi benefici innanzitutto ai campus universitari ma anche a tutta la collettività.